Amici, Stefano De Martino sostituirà Garrison Rochelle? L'ex marito di Belen Rodriguez dovrebbe diventare il nuovo insegnante di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi. A poche ore dall'attesissima messa in onda dell'ottava diretta di Amici di Maria De Filippi, è trapelata online un'indiscrezione secondo cui il ballerino professionista del talent show, Stefano De Martino, dovrebbe subentrare, dal prossimo anno, al coreografo e maestro di danza Garrison Rochelle. Stefano si accinge a diventare insegnante di ballo del talent show. Lo scorso sabato, in prima serata su Canale 5, è stata trasmessa la settima puntata del talent show più seguito dal pubblico italiano, Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua diciassettesima edizione. Nel corso di quest'appuntamento, abbiamo potuto assistere alla vittoria di Loren Celentano nella sezione ballo, e all'eliminazione definitiva dal programma di Simone Baldasseroni, in arte biondo. Subito dopo il verdetto che ha decretato l'uscita dal programma del cantante di De Iavo, è intervenuta la giudice esterna Simona Ventura, la quale si è pronunciata in difesa del talento dell'ormai ex allievo più chiacchierato di Amici 17, non importa il verdetto, biondo è già pronto per il mercato discografico, ha affermato la nota conduttrice. In queste ultime ore, però, sta circolando un'interessante indiscrezione, secondo cui il danzatore professionista di Amici di Maria De Filippi, ed ex fidanzato di Emma Marrone, Stefano De Martino, sarebbe in procinto di subentrare al coreografo veterano del talent, Garrison Rochelle. Garrison tornerà negli Stati Uniti, dove si dice sia stato chiamato per preparare un nuovo talent show. Sarà una coppia a stelle e strisce di Amici?. Questo è quanto si apprende dalle pagine del magazine Spy, in merito alla presunta promozione di Stefano De Martino a nuovo insegnante di danza della trasmissione. Nelle ultime interviste rilasciate ai media, il giovane Campano ha precisato che non intende tornare a ricoprire il ruolo di inviato speciale dell'Isola dei Famosi, dopo aver patito la lontananza da casa, dalla sua famiglia e soprattutto dal figlio Santiago, nato dal suo matrimonio con Belen Rodriguez. Oggi, 27 maggio 2018, in prima serata su Canale 5 verrà trasmessa l'ottava puntata del programma dedicato ai talenti del ballo e del canto, stando a quanto riportato da alcuni giornali, tra gli ospiti in studio dovrebbe esserci l'attrice Sofia Loren. Per ricevere le principali news di tv e gossip, e i relativi aggiornamenti, potete continuare a seguirci sul sito Blasting News Italia.